Ancora una protesta sulla sanità. Sembra impossibile trovare un accordo sui tanto temuti tagli della spesa e della relativa chiusura dei presidi sul territorio regionale. A manifestare i rappresentanti dei presidi di Penna, Tese e Sulmona, presidi dove già si sono svolte manifestazioni di protesta. A Sulmona la contestazione del governatore D'Alfonso. Questa giornata riunisce le proteste abruzzesi, quindi significa che la sanità non funziona. I territori hanno delle forti pressioni, hanno delle esigenze che non vengono soddisfatte da parte della politica. La politica sta sbagliando, sta disorientando i territori. D'Alfonso deve fare delle scelte, deve dire cosa vuol fare, dove vuol andare e come ci vuol andare. Non può cambiare strategia ogni giorno. Appenne quella l'assessore alla sanità Paolucci. Noi vogliamo investimenti sugli ospedali pubblici perché noi difendiamo innanzitutto l'articolo della Costituzione che dice che il diritto alla salute è un diritto di tutti. Se taglia bene il punto nascita, noi vedremo 500 parti in più a Pescara che già è congestionato di suo, che ha 2.500 parti l'anno. Immaginate una bambina, una partorienne di Farindola in inverno sotto la neve che deve venire ad ombulanza da Pescara, poi tornare a Pescara con la neve. Immaginate quale rischio occorre a questi partorienni. Infine a Tessa che ha marciato fino al palazzo dell'emiciclo di L'Aquila. La nostra è una struttura che risponde a tutti i canoni di sicurezza. Sono state di recente fatte tre nuove sale operatorie. Noi chiediamo semplicemente che venga sospeso questo provvedimento di sospensione dell'attività chirurgica, che sia annullato e che non vengano toccate le due unità che ci sono rimaste, che sono quelle di medicina, fisioreabilitazione e di conseguenza non si tocchi il pronto soccorso. Grazie.